Enrico Letta esclude le dimissioni e conclude così una giornata di attesa per il colloquio con Matteo Renzi. Oggi si attende il risponso del PD. Il Presidente del Consiglio ha replicato al Sindaco di Firenze e presentato impegno Italia, un documento volto a rilanciare il suo governo con riforme e stimoli per l'economia sulla base di impegni precisi da parte di chi lo sostiene. Le dimissioni non si danno per dicerie, per manovre di palazzo, perché un retroscena dice questo. Io penso che il rispetto dei confronti delle istituzioni voglia dire che ognuno deve pronunciarsi esplicitamente, ognuno deve dire che cosa vuol fare, mi verrebbe da dire soprattutto chi vuole venire qui al posto mio, deve dire che cosa vuole fare. A conclusione del colloquio avuto a Palazzo Chigi con Letta, Renzi non ha rilasciato dichiarazioni, un incontro che si è svolto all'ombra delle voci su un possibile avvicendamento tra i due alla guida del governo con tanto di liste di potenziali ministri. Renzi ha promesso di parlare a viso aperto all'Assemblea del Partito Democratico che oggi ha proprio il futuro del governo come ordine del giorno.